Torna l'attenzione su Via Martiri della Libertà. Durante il Consiglio Comunale di ieri, Antonino Piadi, per un'altra San Giovanni, ha presentato un'interpellanza focalizzata sulle ultime criticità della strada. Via Martiri della Libertà, ormai dall'inizio dell'estate, ci sono le fognature intrasate, proprio in corrispondenza di un centro commerciale di vendita di prodotti alimentari. E questa pugnatura, a seguito delle prime piogge che ci sono state nel periodo estivo, sono successe intrasamente, ancora tutt'oggi, a metà novembre, sono ancora intrasate. Per Via Martiri della Libertà, sottoposta più volte a lavori urbani, non è stata trovata una definitiva soluzione, ma anzi si è aperta una diatriba tra l'amministrazione comunale di San Giovanni e Publiacqua. Ma la cosa più preoccupante è che Publiacqua non risponde. Avranno fatto decine e decine di telefonate sia alla Publiacqua sia all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale dice no, bisogna essere Publiacqua. Publiacqua dice interveniamo, però ad oggi non è ancora successo niente. Anche stamattina ci sono state delle lamettele da parte, diciamo, degli abitanti della zona, soprattutto in corrispondenza al numero 65, che c'è un negozio di ingegneri alimentari e li bisogna tenere le porte chiuse.